Utilizziamo tutti i giorni delle bottiglie di plastica o dei contenitori per trasportare il cibo o semplicemente degli imballaggi per magari proteggere i nostri alimenti. Bene, io credo che sia giunto il momento di dire basta. E tutto questo soprattutto perché di mezzo ci vanno le generazioni future. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti parlerò di canapa e di bioplastica. Ma come si combatte l'inquinamento? Secondo te basta fare la raccolta differenziata? Secondo te è sufficiente evitare di consumare bottiglie d'acqua in plastica? Bene, no. La mia risposta è molto chiara e semplice. Non possiamo permettere che anni di incoscienza e di inquinamento possono essere risolti semplicemente cambiando una abitudine. Perché è vero che l'abitudine ha reso il nostro mondo molto plastico. Però è anche vero che è stata un'azione attiva di inquinamento. E per difenderci dall'inquinamento è obbligatoria un'azione altrettanto opposta. Raccogliere rifiuti come facciamo noi di Cleaning with Bongai nel tempo libero. E che ci dà tantissima soddisfazione. Ma seguimi perché il punto non è questo. Non è quello di invitarti a far parte della nostra realtà. Il punto è quello di informarti su quello che si sta evolvendo nel mondo per cambiare. E non c'entrano le auto elettriche o le buone pratiche. Ma si tratta di veri e propri scienziati, ricercatori, che hanno messo la loro professionalità per creare un'alternativa sostenibile, efficace e utile. E secondo te la canapa, che è la regina della natura, non sarebbe utile anche in questo caso? La risposta è sì. Già da anni conosciamo tutti la presenza di plastica reciclata o bioplastica. Bene, questo prodotto viene ottenuto dall'utilizzo di derivati da biomassa vegetale. Come ad esempio estratti di cellulosa e amido, che tipicamente possiamo trovare nel mais o nella canna da zucchero. E a giorno d'oggi, grazie alla ricerca, è possibile ottenerla anche dalla canapa. A questo aggiungerei il fatto che purtroppo non è sufficiente. Perché questi prodotti vengono realizzati a partire da una parte organica e addizionati ad additivi chimici. E questo ci fa già capire che non sono del tutto buoni né per l'organismo, altrettanto per l'ambiente. In Italia, la dottoressa Nicoletta Ravasio, dirigente presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche Giulio Natta, ormai studia da anni le proprietà della pianta di canapa e ha raggiunto un importante traguardo nell'ottica delle risorse rinnovabili. La dottoressa Ravasio ci informa, infatti, che dalla canapa si possono ottenere degli elementi molto simili al pexiglass, che sono trasparenti e di colore giallo. In particolare ci riferisce la dottoressa Ravasio che stanno lavorando per ottenere materiali con garze di fibra di canapa. Questo permetterebbe di ottenere un prodotto molto più resistente e completamente biodegradabile. Riferisce che stanno rafforzando questi materiali utilizzando delle fibre di canapa, molto utili soprattutto per migliorare la resistenza di materiali utili alla bioedilizia o al bioarredamento. Dal fusto della canapa, per esattezza dal canapulo, è possibile ottenere fino al 90% di acido lattico, nel quale è possibile produrre il PLA. In sintesi, una bioplastica molto utilizzata nelle stampe 3D. Continua andando a specificare che il suo contributo è mirato alla produzione di materiali completamente biodegradabili e che soprattutto sono focalizzati a quella nicchia che comprende tutti i giocattoli per i bambini. La dottoressa afferma che seppur le ricerche continuano ad avere risultati molto importanti, il tutto diventa abbastanza complesso perché purtroppo in questo momento a livello legislativo ci sono delle poche chiarezze e poche sicurezze, soprattutto per quanto riguarda la coltivazione delle piante di cannabis, che genera incertezza e allontana gli investitori da questo meraviglioso settore e afferma che sono anche parecchi e sarebbero immediatamente disposti a finanziare ulteriormente la ricerca e a collaborare con aziende presenti sul territorio per portare a risultati ancora più importanti e rendere questa meravigliosa soluzione una realtà per tutti i cittadini italiani. Sempre mantenendoci in Italia, molte aziende ci fanno ben sperare perché ad esempio realtà come The Ace Republic, che è sostanzialmente un progetto lanciato nel Longarone, ovvero in provincia di Belluno, il cui obiettivo principale è quello di utilizzare la cellulosa di canapa come materiale di partenza per la creazione di occhiali e altri oggetti di uso quotidiano. E per farlo è stata proprio utilizzata la bioplastica ottenuta dalla canapa. Ma non è finita qui perché abbiamo un altro giovanissimo, il caro Giovanni Milazzo che da Aracusa ha aguzzato il suo ingegno e ha creato insieme al suo socio una realtà importante chiamata Canesis. Questa azienda è specializzata nella stampa 3D e per ottenere questi meravigliosi prodotti utilizza come materia prima gli scarti derivati da qualsiasi parte vegetale. E uno degli obiettivi primi dell'azienda è proprio quella di andare a ridurre e annullare le aggiunte di additivi chimici presenti nella bioplastica. L'obiettivo di Canesis è quindi ottenere un prodotto totalmente biodegradabile e ecosostenibile e devo dire che ci sono riusciti con grande successo. Questi gioiellini del futuro già attivi nel nostro meraviglioso paese sono solo alcune e le più importanti ma considera che molte altre realtà in Europa e anche nel resto del mondo si stanno muovendo per andare a riequilibrare il rapporto con la natura e credo che questo accompagnato con le azioni di molte associazioni senza scopo di lucro come ad esempio Cleaning with Bongae o Plastic Free sono delle realtà che stanno facendo la differenza per invertire la rotta che abbiamo imboccato molti anni fa. Quindi se noi in un evento di mezz'ora due persone otteniamo due sacchi di spazzatura è già un grande segnale per quanto riguarda questa inversione perché considera che due sacchi di immondizia prima di accumularli un po' così nelle spiagge servono mesi e noi in mezz'ora siamo riusciti a riciclarle. Questo è sicuramente un piccolissimo passo ma che se diffuso un po' nelle coscienze di tutti oltre a poter migliorare il nostro rapporto con la natura e il rapporto con noi stessi andiamo a completamente nell'arco di qualche anno a riequilibrare l'impatto e a cercare di cambiare la tendenza. Per concludere come sempre ti ricordo con tutto l'amore che posso un buon cambiamento verde A presto, ciao!